Non è affermio, non è un bene della regione, non è un bene della provincia. Parte da questa considerazione il governatore del Veneto sulla situazione del parco della Storga. Polmono verde di Treviso è il parco urbano più grande d'Europa, da tempo è lasciato all'incuria e al degrado. Le immagini che abbiamo girato nei giorni scorsi descrivono solo parte dei chilometri di passeggiata chiusi o inagibili. Le passarelle in legno col tempo si sono degradate, il mancato sfalcio dell'erba ha di fatto cancellato alcuni percorsi, molte alberature cadute nelle stagioni non sono più state rimosse, rendendo tutto un agglomerato verde inestricabile. Eppure il progetto dell'allora presidente della provincia Zaia era ambizioso. Parte da Storga lo realizzo io, sono 67 ettari, 15 chilometri percorsi, c'era un prato. L'idea era quella di fare il Central Park per Treviso, è una bella opportunità, una bella occasione, soprattutto messa in rete con il Sant'Artemio. Oggi di risorse, pensare di poter intervenire è dura, però penso che si possono trovare delle soluzioni e ad esempio coinvolgendo i volontari, facendo delle attività di pulizia, le associazioni, insomma si possono fare un sacco di cose. Un parco che al momento paga quindi l'incertezza della provincia, con un presidente muraro in uscita, le casse desolatamente vuote di un ente che non capisce più bene le proprie competenze e nel futuro un nuovo responsabile scelto tra i sindaci della marca, che hanno già nel loro territorio ben altre gatte da pelare. Il rischio, sottolinea la gente che frequenta e ama il parco, e che tra provincia e regione Stato qui finisca come l'asino di tanti padroni. Alla fine morirà di fame.